I lavori già appaltati per la realizzazione dell'asilo nido comunale a Pagani inizieranno così come previsto. La posizione del commissario liquidatore del mercato ortofrutticolo sarà superata a prescindere dalle resistenze degli ultimi giorni con le chiavi della struttura ancora non consegnata al comune per adempiere a sopralluoghi e iniziare il programma degli interventi. I nodi stanno per venire al pettine dunque per la vicenda asilo nido comunale, struttura che l'amministrazione ha immaginato di realizzare nella palazzina adiacente l'ingresso del mercato ortofrutticolo di Pagani. Il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa ha detto che è inammissibile pensare che possano andar persi 122 mila euro stanziati per l'opera e ha precisato che se entro lunedì il commissario APA non consegnerà le chiavi agli uffici comunali si procederà all'accesso alla struttura in tutti i modi. Una struttura che ricordiamo ospiterà i bambini dai 0 ai 36 mesi e verrà curata da AgroSolidale. Un commissario liquidatore che continua a gestire un consorzio sine titolo che non ha la titolarità per gestire il mercato ortofrutticolo eppure blocca le attività di un'amministrazione che sta realizzando un bene per l'intera città di Pagani. Ad oggi ancora non ci ha dato le chiavi della struttura per poter cominciare i lavori nonostante la gara per i lavori completamente espletata. Fa ostruzionismo dicendo che deve intervenire la regione, deve intervenire chissà quale ente nonostante insomma il bene sia come tutti sanno di proprietà del comune di Pagani. Io ieri ho sottoscritto un'ordinanza con la quale ho denunciato apertamente e pubblicamente questa situazione che si è venuta a creare. Se entro lunedì mattina non ci verranno consegnate le chiavi dello stabile procederemo anche con la forza per cominciare i lavori presso quella struttura che diventerà un asilo nido per i bambini. Un unico dubbio diciamo che è quello che si sono posti anche alcuni cittadini è quella la zona ideale visto che comunque c'è un passaggio di mezzi pesanti e quant'altro per la realizzazione di un asilo nido oppure avete pensato anche a qualche accorgimento? Allora il progetto che è arrivato in consiglio comunale prevede che quella struttura sia completamente isolata dal resto quindi io tranquillizzo tutti non c'è nessuna preoccupazione l'ingegnere tramontano che è il progettista ha pensato bene a come isolare quella struttura per renderla a misura di bambino. Intanto proprio nelle ultime ore dal mercato ortofrutticolo è giunta una notizia importante quella di un'apertura al dialogo con una comunicazione inviata all'ingegnere tramontano del comune di Pagani con la quale si avvisa che sarà effettuata l'apertura della struttura dell'asilo che ospiterà l'asilo nido già lunedì mattina così da poter dare la possibilità di effettuare i sopralluoghi previsti.